Vorrei dire due parole a proposito di questo blocco delle pittate. L'ipotesi è quella di trasmettere con immagini qualche minuscola idea, qualche piccolo sentimento o risentimento, qualche piccola provocazione. Insomma con quel po' di spregiudicatezza adolescenziale che talvolta investe la mente dei vecchi. Se vi va a seguire questo blocco ne sono felice e vi ringrazio. Andrò avanti giorno per giorno con disperata allegria. Mi servo un po' di questo strumento svariando fra le varie possibilità espressive e cerco di raccontare la vita giorno per giorno, ogni giorno. Questo qua vedi è un gatto che c'è in bocca un uccello. E questa immagine è come ha suggerito queste parole che vorrebbe essere una specie di flash poetico. Ci amammo quel giorno che il gatto salì sul nespolo con l'uccello in bocca e una nula nera di canto portoghese tagliò la luna. A presto! 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 A presto!